A Nicosia, in provincia di Enna, il sindaco minaccia di gettarsi dal tetto a Sala Consilina nel Salernitano un uomo grida che si darà fuoco. La protesta infiamma l'Italia dei tribunali. In tanti speravano in un ripensamento, si illudevano che i quasi 900 uffici destinati a chiudere i battenti venissero salvati. Nulla di tutto questo, il D-Day è arrivato. Avvocati e politici locali, ma anche un buon numero di parlamentari bipartisan, restano in prima linea contro la riforma giudiziaria che cancella 30 tribunali, altrettante procure, 220 sezioni distaccate e 667 sedi dei giudici di pace. Cambia la geografia giudiziaria della penisola con relativo trasferimento di oltre 7.300 dipendenti e quasi 3.000 magistrati, tutti o quasi contro il ministro della giustizia che comunque va avanti. Lo scopo della riforma, ribadisce oggi Anna Maria Cancellieri, è garantire al cittadino e alla collettività un servizio migliore ed una migliore tutela dei diritti. Come dire, la famosa e sempre auspicata giustizia giusta a tempi brevi e maggiore efficienza. Una nuova organizzazione del lavoro, una struttura territoriale più moderna che guardi alla giustizia del futuro, scrive il guarda sigilli ai protagonisti della vita giudiziaria del Paese, dicendosi certa che tutti daranno il loro contributo senza nostalgie per il passato, dimostrando che la pubblica amministrazione è in grado di rinnovarsi. La cancellazione dei cosiddetti tribunalini farà risparmiare allo Stato 80 milioni di euro, ma il malumore è forte ovunque. Sarà il caos, il ministro ci deve convocare, tuona il presidente dell'Unione Camere Penali Valerio Spigarelli. Siamo alla farsa, gli fa eco il presidente dell'organismo dell'Avvocatura Valerio Marini. Protestano anche le otto sedi salvate per altri due anni, quelle di Chiavari, Sanremo, Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo e Vigevano per i processi civili, Rossano e Lucerna per quelli penali. Porteranno a termine solo i procedimenti avviati, gli altri già da oggi dovranno essere presentati nelle nuove sedi.